Ed ecco il nostro camper. 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 Semplice costruzione. Modello a base dell'epoca. Marlin Dream 2. Questa è la nostra cabina di guida. Questa è il quanto a chi non vetti non è morti ma... Questa... E questo sono sempre io. Questa è la cucina. Frigo dell'elettro. E qui c'è il bagno. Questo sono sempre io. Ciao. E qui è il nostro posto dove mangiamo. L'inverno. L'inverno. E questo è col disegno padre. Buono. Buona visione.